Ilari Blasi rompe il silenzio social e torna a farsi vedere. La conduttrice era sparita da giorni, subito dopo aver incontrato Francesco Totti a Sabaudia per il cambio di guardia alla Casa al Mare, dove l'ex calciatore resterà fino a Ferragosto con i figli, sollevando un vespaio di curiosità. Ilari è fuggita dal via vai di paparazzi che ormai da settimane fanno la spola tra Roma e il litorale laziale, e si è rifugiata sulle Dolomiti. Da qui pubblica le ultime storie Instagram, in cui appare sola, ma chi c'è a fotografarla? Per il momento nessun indizio sul presunto accompagnatore o accompagnatrice, solo immagini rilassanti tra il lago di Braies e altri scorci da sogno immersi nel verde. Qui la conduttrice proverà a rigenerarsi dopo la tempesta familiare che la travolta. Non sarà semplice per lei voltare pagina e costruire un nuovo equilibrio, per questo probabilmente resterà anche lontana dalla TV per qualche tempo. Secondo indiscrezioni che arrivano da ben informati, non tornerà prima di un anno e dedicherà questo tempo a se stessa e ai figli. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.